no comunque devo dire che dopo la pandemia, dopo il lockdown vediamo ancora quando uscire è un po' un trauma perché vedevo i centri commerciali in questo periodo è una roba allucinante infatti c'è oh mamma sono così belle qualche volta non c'è un po' di gente mi manca proprio la gerente non vanno tanto tanti 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 non mancherebbe da nessuno però qualche persona in più mi parebbe male ecco oh allora facciamo una cosa bella ogni tanto oppure è fatta e stavo dicendo mi ha dato un po' un senso di tristezza no? però a parte quello meno male ecco 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 lo devo prima trasformare poi trasportare lì non riesce ad arrivareci ok poi faccio così e qua sotto io devo arrivare qua e poi prendo l'occhio 41 su 75 ah già è vero ma mi pare di avervi detto che non avrei preso tutti questi abili a suo giro ma solo quelli che trovavo perché magari mi sono interessato l'avrei fatto dopo quindi vabbè lo ripeto mi sono passato un anno mi pare che avevo smesso di fare questo per Fino Mark che era appena uscito Fino Mark 3 e volevo portarlo qui a fondo è vero certo perché mi tolgo no non voleva se tolgo un dito lo voleva ah ho capito ho capito ho capito no non volevo prenderlo grazie no inizialmente sono roba veloce sono roba veloce sono roba veloce Certo, non ci prendo perché c'è un macello, ho fatto tutti i collezionati di un po', allora, anche questo, certo, allora questo, lo devo fare un animale a questo, questo, una migliorina, e qua, e questa. Allora, pronti? Ok, mamma mia, che fortuna, ma che fortuna ho avuto, altro che bravura, qua è fortuna, ok, poi, tre dell'ave maria qua, allora. Allora, devo mettere, se conviene fare, prima quello, poi quello e poi quest'altro. Allora, prima tu, qui, vediamo se ci siamo fatti troppo lontani. Però, 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 vediamo. Allora, questo lo faccio, non lo becca. Ok, guarda che la lingua di fuori, ma quando mi concentro c'è una linguetta di fuori. Ehm, vabbè, fatto. Niente, la stella sono particolarmente allegra, ma non è successo niente di che, quindi mi immagino a testa di cosa. Ehm, che devo fare qua? Ma siamo impazziti? Aspetta, aspetta, l'ho capita, l'ho capita. Allora. L'ho capita, questo vuole. Non mi posso sottare. Non è proprio il camin. L'ho preso, ho preso. No, mamma mia. Non è fortuna, di più. Allora, questo lo scopo dentro del naso. No, no. Come sempre. Ah, aspetta, aspetta. Vedete un secondo, perché vedo che c'è un occhietto là. Prima prendo quello. Allora. No, non lo togli. No. Eccolo qui. Facchiamo questo. Perfetto. E ho paura, però, che la... Come vi posso dire? Il risultato, comunque, finale, delimita, è incondenzionabile. Comunque, da una parte di essi. Perché non so se ha il dopo finale, ma... Non lo so. Mi fa pensare questo. Ero bene. Oh, mio. No, 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 no. Corri, corri, corri. Corri, corri, corri. No. What? What is that? Come, thank you. Go. Thank you. Ah. Ah. Ok, io ho fatto tutto questo, però devo arrivare 5 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 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 10 10 11 11 12 12 12 13 12 12 12 12 12 14 15 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 16 15 15 15 15 Come no? Mh, c'è vero! Come no! Allora... Mori a scaldolè! Ok. Bellissimo, ma non così. Ma non ho così certo! il polo lupo lupo guarda il cristo ma la simpatia con il cristo ok lupo 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 vieni mi rendete conto alle 11 di sera esatto neanche io posso prenderci non vuole cercare di più quante botte ok